Antonella Mosetti continua ad ammaiare i suoi follower con degli scatti e dei video che fanno letteralmente impazzire i seguaci. La 41enne dal fisico statuario non teme il tempo che passa, ed infatti con lei pare essere stato decisamente clemente. Fisico mozzafiato e curve esplosive, la sugarl pare essere scesa a patto col diavolo. Antonella Muselli il video mentre fa la sauna recentemente. L'ex ragazza di Nonella Rai, ha postato sul suo profilo Instagram che conta più di 560. 000 follower, un video da censura. Antonella appare intenta a fare una sauna con indosso un costume che non lascia molto spazio all'immaginazione. I suoi follower si sono complimentati con lei per la sua avvenenza, che nel corso del tempo non è mai sfiorita. Continua dopo il video, view disposto un Instagram bikini donna rosa cancelletto bikini cancelletto spa cancelletto shooting cancelletto video a post shared by Antonella Mosetti Chiocciola Antonella Mosetti, confer 5, 2028 9 e 10 del mattino pst Antonella Mosetti bella con la crioterapia la 41enne ha ammesso, attraverso una foto postata sul suo canale social, che per mantenersi in forma utilizza anche la crioterapia. Una tecnica che in questi anni sta spopolando sempre più anche in Italia, utilizzata anche da Gianluca Vacchi. Ma in cosa consiste? Vi ho disposto un Instagram Chiocciola Te Longevity Suite Fiocco di Neve Cuore Blue Crioterapia Brucia i grassi depositati sul tuo corpo e tonifica i muscoli, senza azoto. Effetto immediato Star Strack Questo trattamento prevede la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda con temperature che vanno da meno 85 gradi centigradi a meno 95 gradi centigradi per un intervallo di tempo tra i 3 e i 5 minuti. A post shared by Antonella Mosetti Chiocciola Antonella Mosetti On Feb 7, 2020 at 10.43 del mattino Pst La crioterapia Altro non è che una terapia del freddo ed è un nuovo metodo che sta spopolando soprattutto tra le VIP, il quale lo utilizzano prevalentemente per essere più belle. Alla sua base c'è l'impiego di azoto liquido, un gas in grado di raggiungere una temperatura pari a meno 196 c sotto lo zero. Può aiutare a mantenere il peso forma, a ridurre il grasso localizzato, prevenire l'invecchiamento e il rilassamento muscolare, ridurre la ritenzione idrica ed aiutare il contrasto dell'inestetismo della cellulite, migliorare la tonicità della pelle e prevenire così le rughe e i segni del tempo. Stimolando la rigenerazione cellulare Ovviamente anche questo tipo di tecnica ha delle sue controindicazioni e deve essere evitata dai soggetti ipersensibili al freddo e a freddi d'arteriopatie, una patologia del sistema circolatorio. Tra le fanno strane e non del freddo intenso, anche la moglie di Francesco Totti e Larry Blasi e l'ex modella e first lady Carla Brummi. Inoltre pare che anche Jennifer Aniston e Jessica Alba la abbiano ceduto alla tentazione.